Allora io c'entro il gas, ecco qua, così, che si scalda, questo faccio così, questo di qua, Ciao, sono Nonna Fernanda, 20 del 26, e oggi sono felice, strafelice, ho avuto una giornata meravigliosa. Metà olio e metà strutto per dolci. Dentro l'olio? Sì, perché rimangono più morbide. I torteghi, lo diciamo, di solito noi li facciamo per carnavale, invece ho visto proprio per Natale, giù il meridione, che li fanno per Natale. Ecco qua l'olio bello bollente, si gira, lo faccio vedere. E' tutto bene? Benissimo. Lei? Io bene. E' tutto bene? Io sono figlia della mia pancia, sono nata che mia mamma aveva già 38 anni, allora era vecchia, però quando sono nata io, scalda 38 anni, però aveva già altri figli più grandi. Mi ha insegnato tante cose, una volta le usavano, le figlie femmine dovevano saperla mangiare, dovevano saperla mangiare, dovevano saperla mangiare. Amici. Pensi che io ero innamorata di Alassio, le vacanze da giovane, da ragazza, l'ho sempre passata Alassio. Quando ho visto Santa Monica, oddio mamma, cosa andavo a vedere? Mi ha spolverato. Prego. Questo piatto è completo. E' una vita che cucino, però lo faccio sempre con lo stesso amore che avevo una volta. E io sono la donna più felice del mondo. Ciao America! E' la mia Americanina! E le ringrazio tutti, veramente di cuore. Grazie. 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 Grazie.